Allora sono Teresa Bagnoli di Aster, in particolare mi occupo di coordinare il progetto Green Industries e oggi abbiamo premiato all'interno del premio della sostenibilità di AES, abbiamo creato una menzione speciale dedicata proprio a Green Industries, questo perché ci teniamo a lanciare il tema dell'edilizia produttiva come uno dei settori in cui può essere veramente importante iniziare a lavorare sul tema della sostenibilità, che per noi vuol dire riduzione dei consumi, vuol dire fare efficienza energetica e vuol dire anche migliorare la qualità degli ambienti di vita dove lavorano le persone e quindi spendono gran parte del loro tempo. Questo lo abbiamo potuto fare perché il progetto è un progetto finanziato dalla Climate Kick, quindi ci ha permesso di lavorare due anni e attuare delle sperimentazioni, quindi delle azioni pilota sul nostro territorio della regione Emilia-Romagna per sostenere questo tipo di azioni, cioè azioni che abbiano un potenziale di sostenibilità ambientale, abbiano un potenziale di accelerare il mercato di questo tipo di soluzioni, incentivando l'innovazione.